Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti sotto tv Oggi ci troviamo su ArenaCraft con Mario Alexis E nessun altro, doveva esserci anche Elena Ok, no, questo non voleva fare screen Ci hai fatto Fa Fato screen Ci troviamo su L'ang... sul serial game di ArenaCraft Scrivete tutti Siamo sul server di ArenaCraft come sempre Perché è l'unico server In cui gioco a parte MinePlex Però scrivete bene Ehm... Nel parte MinePlex Però su MinePlex non ci faccio video Perché... I miei obesi americani tengono le connessioni sotto il culo Esatto, hanno una connessione che raga E' impossibile fare i pvp Non è alla pari secondo me Router sotto il culo Router sotto il culo, va bene così? Ok... 1.8... 1.3... registrare di nuovo dopo, sono due paia di palle mele 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 e tre, due dammi un'arma, finiciamo subito l'anger game se trovo un'arma al di inizio eh vabbè ma sta mappa la odio io ho già visto uno con la spada che mi guardava e andiamocene a fare in curato guarda, Anto, Mario dove sei? vuoi uno strozzo invece da con me Mario scappa scappa ti vede ti vede gli sto dietro, gli sto dietro io lo sto appoggiando Mario gli sto facendo sentire la presenza a Mario bravo andiamocene a fare in cura, meno male che sono più veloce di quello zino come non detto mi arrumpe ancora il cazzo sto free sta dietro di me ma tu cazzo stiamo andando qui non c'è niente no spendiamo in quelli, sono quelli sono all'aspetto e ti spingo quanto ti ho tolto? eh sì bravo un altro colpo grazie che sto per morire ok aspetta vieni se ti fermi te ne ho un altro dietro di te sta un cazzone che ti vuole ammazzare l'ho ammazzato ok è tu che mi rompe il cavolo su pro zap ah sta sto burnet fire se sto free andate a rompere il cazzo a burnet fire a me sarebbe fantastico ok allora eeeh da tanto abbiamo il colteo oh 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 temba la via cruce la fila alle poste no non arriva a Mario turno da vedi alla cazzo no no dammi vai Mario prendi la pensione per prima mi serve la pensione altrimenti qui non la prendiamo mai prendi questa cazza di pensione ok prendi sta cazza c'è un cane ne prego e lo sapevo gandiran no no anche una spada ma scappiamo non ti fermare che c'è quello dietro con la spada di ferro che mi fa paura eeeh vieni di qua vieni di qua nelle macchine ricordo che in alcune macchine c'era la cesta c'è qualcosa ma questa è una mappa di merda uuuu nigeriano eh scusa grazie e ho detto che ero messo di merda tu loro mi ascolti come parlare al mondo non c'è mai stato e parlaci questa la metto Mario quel cazzo che non la metto grazie